Un incontro dibattito relativo al grande progetto Sarno. Sono stati invitati il senatore Bartolomeo Pepe del Movimento 5 Stelle, l'ingegner Vincenzo Adamo, tecnico di Striano, che ha illustrato il progetto. Ha messo in risalto Adamo la mancanza di collettori per completare l'opera di bonifica, in particolare il mancato completamento del canale Conte di Sarno, che sarebbe il torrente che dovrebbe ricevere l'acqua delle pendici del Vesuvio e comporterebbe l'allagamento delle zone di Poggio Marino e Striano, se non ultimato. Ha portato il suo contributo alla discussione anche il nocerino Emidio Ventre, che ha denunciato soprattutto la mancata realizzazione o completamento dei collettori, oltre che la sottrazione di circa 35 ettari di terreno agricolo sul loro territorio. Nel suo intervento Ventre, come al solito, ha posto l'accento sul disastro ambientale sul territorio di Nocera Inferiore e Superiore, in quanto la creazione delle vasche porterà all'inquinamento delle falde. Se infatti a San Valentino scorre un fiume che può ritenersi tale, in quanto non contaminato da scarichi industriali illegali, a Nocera con la Solofrana e Cavaiola, che sono i fiumi più inquinati d'Europa, non possiamo certo essere allegri, ha detto. Ha passato le sue osservazioni al senatore Pepe, il quale, dopo aver compreso il problema, grazie anche al fatto che il Movimento 5 Stelle ha istituito un tavolo tecnico sullo stato di inquinamento del fiume Sarno, ha assicurato il suo apporto, in quanto anche lui, essendo di Acerra, da anni in prima linea per le problematiche ambientali ben note nella zona. Ma è così difficile capire che il fiume inquinato? Si domanda provocatoriamente l'espetto di ambiente medioventre, aggiungendo. Nessuno mai si è affacciato lungo il fiume a Via Cucci, buttando uno sguardo nel fiume o sentendo la sua puzza. Non credo che bisogna essere esperti per capire. Sarebbe la stessa Arcadis ad ammetterlo. È così difficile capire che facendo confluire questo fiume in un terreno, sia esso impermeabilizzato o meno, questo, se non domani, ma tra qualche anno, contaminerà la falda? Allora, se anche gli amici della natura ancora oggi stanno a chiedersi chi ha ragione senza affrontare il problema, lasciando che gli altri decidano la sorte di questo territorio, non c'erano a più speranze. Prossimo passo da fare è la costituzione di un comitato composto da tutte persone di buona volontà, senza distinzione di colori politici, razze e religioni, in quanto l'organismo dovrà essere pronto a presentare un ricorso al TAR appena si avrà il verdetto della valutazione di impatto ambientale.